Siamo solo amici. Promettimi che non creerà problemi tra noi. Che cosa potrebbe mai cambiare? Questi sono nel caso fosse colpa del sushi. E questi nel caso in cui non lo fosse. Oddio. Non so che cosa fare. Ti credevo un viaggio per lei. Sono incinta. Cosa? Di lui. Io trovo fantastico avere un piano quinquennale. Anche io. Ai nostri piani quinquennali. Dobbiamo sposarci. No, 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 alzati. Ci ho riflettuto parecchio da ieri sera. Fin da ieri sera? Credevo fosse una decisione avventata. No, ci hanno riflettuto. È tutto ok. Tutti passano un momento nella propria vita in cui devono scegliere cosa più importante per loro. Non sapevo nemmeno che voi due foste una coppia. Siamo per lo più amici. Ogni giorno, tranne un giorno. Ma è stata una notte in realtà. Anzi, forse mezza sera. Come make that game. Wow.